Buonasera commissario. Buonasera signorina, mi dica. Io vengo a fare la denuncia. Che è successo? Sentiamo. Ha conoscito una rusa, hace un par di dias se ve e mi ha dejato. C'è Lady Gennaro che ha una figlia sceva e vuole un esorcismo. Sta storia dell'esorcismo sta passando alla mano, bimba. Che è successo? Che è successo? Buonasera commissario. Buonasera signorina, mi dica. Io vengo a fare la denuncia. Ha conoscito una rusa, hace un par di dias se ve e mi ha dejato. C'è Lady Gennaro che ha una figlia sceva e vuole un esorcismo. Ho saputo che la vostra fame è arrivata sino a Roma, che se andate a Roma addirittura a fare un esorcismo. Spero che riusciate a fare qualcosa anche per quella stronza di mia figlia. Exorcismus te, omnis immundus. Da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia. Non ci tocca nessuno. Da stasera vado a fare il capo redattore, in un giornale importante. Chi ti ha trovato questo posto? L'ho avuto da mio socio questo posto. Ah, quel grandissimo fascista. Buonasera commissario. Buonasera signorina, mi dica. Ha conosciuto una rusa, hace un par di dias se ve e mi ha dejato. C'è Lady Gennaro che ha una figlia sceva e vuole un esorcismo. Spero che riusciate a fare qualcosa anche per quella stronza di mia figlia. Exorcismus te, omnis immundus. Da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia, non ci tocca nessuno. Da stasera vado a fare il capo redattore, in un giornale importante. Chi ti ha trovato questo posto? L'ho avuto da mio socio questo posto. Ah, quel grandissimo fascista. E com'è andata quel colloquio di Roma? Com'è andata? Non c'era niente. Che l'avete fatto? Noi che cosa abbiamo fatto? Tu che cos'hai fatto la nostra figlia? Buffone? Pagliaccio? Che avete fatto questi cretini? Commissario, io non sto loca. Sto desesperata. Che è molto distinto. Buonasera commissario. Buonasera signorina, mi dica. C'è lei di Gennaro che ha una figlia scena e vuole un'esorcista. Da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia, non ci tocca nessuno. L'ho avuto da mio socio questo posto. Ah, quel grandissimo fascista. Che avete fatto questi cretini? Signorina, questo è un posto di polizia. Non è lo psichiatrico, non è il manicomio. Si è buttata, si è uccisa. Tu l'hai uccisa, buffone. Ma non è l'esercizio. E ora dobbiamo ritrovare l'esercizio magico. Buonasera commissario. Buonasera signorina, mi dica. C'è lei di Gennaro che ha una figlia scena. Da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia, non ci tocca nessuno. Chi ti ha trovato questo posto? L'ho avuto da mio socio questo posto. Ah, quel grandissimo fascista. Che avete fatto questi cretini? Signorina, questo è un posto di polizia. Non è lo psichiatrico, non è il manicomio. Si è buttata. Tu l'hai uccisa, buffone. Ma chiese, so che di una madre. Vai Nicky, vai. Dai che ce la fai, dai. Chi comanda il bando? Potere occulto, masonerie, chiesa, politica. Buonasera commissario. Buonasera signorina, mi dica. Da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia. Non ci tocca nessuno. Ah, quel grandissimo fascista. Che avete fatto questi cretini? Sei buttata. Ma ho chiese, so che di una madre. Vai Nicky, vai. Chi comanda il bando? Potere occulto, masonerie, chiese, politica. Ma io mi faccio i cazzini. Ti vuoi confessare? Che a me non me lo freghi molto che tu sei carabinico, il culo del polizio. Il killer del peperoncino. Tu lo sai chi è? Chi lo so? Che lavoro? Buonasera commissario. Buonasera signorina. Mi dica. Da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia. Non ci tocca nessuno. Che avete fatto questi cretini? Ma ho chiese, so che di una madre. Vai Nicky, vai. Potere occulto, masonerie, chiese, politica. Ti vuoi confessare? Che a me non me lo freghi molto che tu sei carabinico, il culo del polizio? Che vuoi? Ma voi che cosa volete da noi? Che vogliamo che vi distruggiamo alla fine? Su prenderne. Lo prendo. Questo lo faccio. Andiamo. Buonasera commissario. Buonasera signorina. Mi dica. Da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia. Non ci tocca nessuno. Che avete fatto questi cretini? Ma ho chiese, so che di una madre. Vai Nicky, vai. Ti vuoi confessare? Che vuoi? Voglio sapere solo che ho ucciso il nostro commissario. Sei tu! Sei tu! Ma lo voglio sapere io! Ma tu che cazzo sei. Come ti permette? Di togliere la mia vita. Buonasera commissario. Buonasera signorina. Vi dica. Da qualche mese me la faccio con un commissario di polizia. Non ci tocca nessuno. Che avete fatto questi cretini? Ma ho chiese, so che di una madre. Ti vuoi confessare? Che vuoi? Voglio sapere solo che ho ucciso il nostro commissario. Sei tu! Sei tu! Sei tu! Ma lo voglio sapere io! Ma tu che cazzo sei. E' un virus mentale. Sei proprio un pezzo di merda. Sei impazzita? Adesso sono io. Il commissario. Buonasera commissario. Buonasera signorina. Mi dica. Che avete fatto questi cretini? Ma ho chiese, so che di una madre. Ti vuoi confessare? Che vuoi? L'ho avuto da mio suorcio questo posto. Ah! Quel grandissimo fascista. Sei tu! Sei tu! Ma lo voglio sapere io! Sei proprio un pezzo di merda. Sei impazzita? Sono io. Il commissario. E' successo di tutto. Di tutto. Avanti signorina, vengo avanti. Devo denunciare mio marito. Protezione ti serve. La città è corrotta. A Bari si sta muovendo qualcosa di grosso. Tu dei poteri è un tesco magico. Con Lenin ancora in vita voglio dire noi siamo super protetti. Questo è un commissariato signorina. Non è una piscatiera. Buonasera commissario. Buonasera signorina. Mi dica. Che avete fatto sti credini? Ma che se so che di una madre. Ti vuoi confessare? Che vuoi? L'ho avuto da mio suorcio questo posto. Ah! Quel grandissimo fascista. Sei tu! Sei tu! Sei tu! E' un pezzo di merda. E' successo di tutti, di tutto. Avanti signorina, vengo avanti. Devo denunciare mio marito. Protezione ti serve. La città è corrotta. Tu dei poteri è un tesco magico. Con Lenin ancora in vita voglio dire noi siamo super protetti. Di che cosa vi volete denunciare? Violenza psicologica. Dobbiamo creare in un altro caso Fucchi. Regine. A Bari sta succedendo qualcosa di grosso. Lo sai o no? Che cosa c'è da dire sul fascista? So dove l'anartica. Buonasera comissario. Buonasera signorina. Che avete fatto sti credini? Ma che se so che di una madre. Ti vuoi confessare? L'ho avuto da mio suorcio questo posto. Ah! Quel grandissimo fascista. Che cosa c'è da dire sul fascista? E' successo di tutto. Sei tu! Sei tu! Sei proprio un pezzo di merda. Devo denunciare mio marito. La città è corrotta. Tu dei poteri è un tesco magico. Con Lenin ancora in vita voglio dire noi siamo super protetti. Di che cosa vi volete denunciare? Violenza psicologica. Dobbiamo creare in un altro caso Fucchi. Regine. So dov'è l'anartico. La russa che state cercando sono io. Vedi cosa ho fatto per il mio ex commissario. Possete una cosa? L'occhio è ancora sbagliato. In effetti ha ragione. Lei per me non è il commissario. Ho fatto un errore. E impazzirò. La mia ossessione è il killer del peccato oggi.